Per la tua casa, la tua attività, la tua azienda, fai una scelta ecosostenibile con Solenzo Energia, con soluzioni rinnovabili e sostenibili, attraverso la progettazione e l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore, impianto solare termico. Solenzo Energia, l'energia che si rinnova. Questo è un progetto che abbiamo voluto fortemente io e Marco. Si trattano purtroppo tematiche sempre ricorrenti, la lotta per la libertà, la lotta contro ogni forma di discriminazione, quindi attraverso la nostra danza, che è una contaminazione tra la danza contemporanea e la street dance, attraverso la nostra danza vogliamo comunque portare nel cuore delle persone, nelle menti delle persone, questi concetti, concetti comunque abbastanza importanti e forti. Esattamente, Veronica, come tu dici, noi siamo molto orgogliosi di portare appunto la danza in giro. Abbiamo scelto Pagani perché comunque Pagani ha una forte tradizione, il pubblico di Pagani sente la tradizione e quindi per tradizione noi intendiamo anche il teatro, quello che è lo spettacolo e quindi ci teniamo molto a essere qui. Sì, l'ingresso è gratuito e vogliamo appunto abituare le persone ad andare a teatro, a passare serate diverse e perché no ecco appunto andare a vedere coreografie di danza a teatro. Anche perché aggiungo soltanto questo piccolo concetto che comunque quello che noi facciamo è frutto di cultura, quindi di curiosità, di cultura che ci rende delle persone libere e crediamo che la cultura è veramente il mezzo per concedere all'individuo la libertà. I prossimi progetti ce ne sono un bel po', almeno io individualmente con la compagnia, tu con i tuoi progetti. Però di sicuro ci sarà, non speleriamo niente, però di sicuro ci sarà qualcosina.